Calcio Serie D, pareggio a reti inviolate tra San Luca e San Cataldese, un punto utile in chiave salvezza per i Verdi Amaranto, contro una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato dilettantistico nazionale. In un campo difficile, la squadra di San Cataldo ha dimostrato di avere i mezzi tecnici per aspirare ad una zona di classifica decisamente più tranquilla. E ora testa al derby con il Licata, molto sentito dalle due tifoserie, in programma domenica al Valentino Mazzola alle 14.30. I risultati dell'undicesima giornata. Catania-Canicatì 3-0, Trapani-Santa Maria 2-1, Licata-Cireale 1-0, Paternò-Castrovillari 1-3, Ragusa-Realaversa 2-1, San Luca-San Cataldese 0-0, Mariglianese-Cittanova 0-1, Vibonese-Lamezia 1-1, Locri-Santa Agata 2-1. La classifica. Catania 31-Lamezia 21-Vibonese 20-Locri 18-Ragusa 17-Realaversa-Castrovillari-Trapani-Licata-Santa Agata 15-Paternò 13-Santa Maria-San Luca-Canicatì 12-Acireale-San Cataldese 11-Cittanova 8-Mariglianese 3-3. In eccellenza la Nice non va oltre il pari, 1-1 nel confronto casalingo con l'Enna al Palmintelli. Biancoscudati in vantaggio nel primo tempo con Martorana, ispirato da Morales. Nella ripresa gli ospiti piggiano sull'acceleratore e raggiungono il pari su calcio di rigore. Dagli 11 metri Amaia non sbaglia l'appuntamento con il gol. I risultati della decima giornata Parmonval-Mazzarese 1-2 Casteldaccia-Cus-Palermo 0-0 Leonfortese-Resuttana 1-0 Sciacca-Profavara 0-1 Acragas-Castellammare 1-1 Mazzara-Don Carlo 0-1 Nissa-Enna 1-1 Oratorio-Marineo-Gela 2-1 La classifica Acragas-24 Don Carlo-22 Profavara-21 Mazzarese-Enna-20 Mazzara-18 Sciacca-16 Casteldaccia-15 Nissa-12 Castellammare-11 Leonfortese-10 Oratorio-Marineo-9 Resuttana-Cus-Palermo-7 Parmonval-4 Gela-3 Grazie a tutti